Allora, la premessa puntata di questa storia è una vera purezza, vendemmia 2008, non è ancora fatto di aver preso, ma è un esperimento che devo fare, prendendo una massa unica e dividendola in due, due vasche identiche, nello stesso ambiente, ecco quella lì. Adesso ho capito per lei. Ok, per cui non ti sto facendo provare uno chatone, però è interessante che si possono studiare questo momento evolutivo che c'è la pasta, per cui l'ho, diciamo, prelevato di vasca, si possono sentire, sono curiosi di sentire, ma la faccia la mia madre? Eh, la differenza, eh, no, è certo, tu hai fatto su tutte coppie, ah, gli ha fatto un po' più, sì, un po' più a lui, poi c'è il libro di Porto, è un pieno comico, c'è il bambino, c'è il bambino, c'è il bambino.